Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti. Benvenuti innanzitutto agli studenti europei di altri paesi che hanno deciso di fare questa straordinaria esperienza chiamata Erasmus in Italia, nella nostra capitale qui a Roma. Un caro saluto anche a tutti gli studenti italiani Erasmus che lo hanno fatto, che si accingono a partire. Mi dispiace di non essere con voi fisicamente e ringrazio il presidente dell'Erasmus Student Network, Simone Acquaviva, per l'invito. Mi sarebbe piaciuto essere con voi in persona, ma non voglio fare mancare il mio contributo, la mia testimonianza, se così si può dire. Mi dispiace anche di non essere di nuovo in sala con la madre dell'Erasmus, come diciamo noi non solo in Italia, ma ormai in Europa Sofia Corradi. L'Erasmus ha due genitori italiani e di questo ne siamo molto fieri. Sofia Corradi che si è battuta per l'idea della mobilità, della libertà, del riconoscimento dell'università universale. Del resto è questo l'origine della parola università e Erasmus corrisponde esattamente a questa universalità che deve sempre accompagnare lo studio. Il padre è uno straordinario funzionario, ex funzionario ormai europeo di nazionalità italiana, Domenico Lenarduzzi, che ho avuto il piacere di conoscere di persona quando anche io lavoravo alla Commissione Europea e che è stato un po' il braccio operativo di Jacques Delors quando a metà degli anni Ottanta, dopo l'avvio del mercato unico, dopo l'atto unico europeo, si cominciò a lavorare seriamente per arrivare a quella data che è una data storica per tutti noi Erasmus, perché anch'io l'ho fatto 28 anni fa, cioè l'avvio nel 1987 del programma Erasmus. Dico anch'io 28 anni fa facevo la cosa che voi fate oggi, non ho detto che ero nelle vostre condizioni, ma che facevo la stessa cosa, cioè partecipavo al programma Erasmus, lo facevo proprio qualche settimana dopo il crollo del muro di Berlino, una settimana fa lo abbiamo celebrato il 9 novembre, siamo passati 28 anni da quando il muro di Berlino è crollato, da quando l'Europa ha fatto un grande passo in avanti nel ridiventare se stessa, cioè un continente libero, unito, aperto, senza muri, 28 anni anche, siamo passati dalla, 27, dalla mia prima esperienza Erasmus che fu proprio alla fine dell'89, inizio 90 a Parigi, alla Sorbona. Non eravamo noi pionieri dell'Erasmus invece nelle vostre condizioni, facevamo il vostro programma, non eravamo nelle vostre condizioni, dovevamo cambiare moneta, dovevo cambiare l'eritaliano in franchi francesi, non avevamo le low cost, altro prodotto del mercato unico, altro prodotto di quello che è stato costruito dopo, nella fine del 92, il primo gennaio 93 e il lavoro che abbiamo fatto in seguito al primo gennaio 93, cioè l'anno di avvio vero del mercato unico, prendevo un treno, viaggiavo di notte, ma avevamo lo stesso entusiasmo, forse più di voi la consapevolezza che stavamo facendo qualcosa di straordinario e la consapevolezza che quello che stavamo facendo non era affatto scontato, perché noi l'Europa del muro l'avevamo conosciuta. Io spero che anche voi maturiate questa consapevolezza, che questo Erasmus che voi fate non è affatto scontato, che non è affatto garantito per chi vi succederà, che bisogna battersi ogni giorno per garantire l'Europa della libertà e l'Erasmus è la più grande prova vissuta, ormai tra le varie forme di mobilità di Erasmus da più di 9 milioni europei, che l'Europa della libertà esiste, che è un'opportunità che va colta, ma è un'opportunità anche che va coltivata. Non è solo una speranza l'Europa nella realtà, ma dobbiamo coltivare questa realtà, dobbiamo difendere, dobbiamo anche coltivare sempre di più la speranza europea, che è una speranza che quello che voi state vivendo, ed è straordinario come studenti, come cittadini, come giovani, lo vivano un numero sempre maggiore di ragazze e ragazzi, perché il problema è quello di essere un programma troppo limitato, ha adesso la nomea di essere un programma di elite, io non credo affatto, come addirittura un ex presidente del Consiglio italiano ha detto che chi fa l'Erasmus fa parte dell'elite, io non mi sentivo parte di un'elite nell'89, credo che tanti di voi vengono da situazioni assolutamente normali, non diritti, però è vero che occorre fare in modo che l'Erasmus non sia un'opportunità per chi la può cogliere, che sia un'opportunità vera per tutti coloro che la vogliono cogliere, cioè che sia ancora più inclusivo, ecco perché bisogna aumentare le risorse per l'Erasmus, noi lo abbiamo fatto, ci siamo battuti, abbiamo ottenuto ad esempio rispetto allo scorso anno che 300 milioni in più siano messi per l'Erasmus e per i vari programmi di mobilità nel bilancio europeo, abbiamo proposto, l'ho fatto io a nome del governo italiano nel negoziato per il bilancio del futuro, quello che dovrà riguardare il periodo 2020-2027, di moltiplicare per 10 le risorse dell'Erasmus, sarà difficile, non riusciremo a moltiplicare per 10, intanto facciamo la battaglia, facciamo una battaglia che è quella di rafforzare l'Europa che esiste, dell'Europa di successo, però bisogna anche aumentare le singole borse e bisogna aumentarle soprattutto per coloro che vengono da famiglie con un reito più basso, più modesto, perché deve essere sempre di più non solo un programma di massa, ma anche un programma di inclusione e questo è assolutamente uno degli obiettivi che dobbiamo assolutamente perseguire. L'altro aspetto per cui non dobbiamo darlo per nulla, affatto per scontato, né che l'Europa non è l'Europa dei muri e né che l'Erasmus è lì per sempre, la ragione è che negli anni scorsi e purtroppo ancora adesso ci sono forze politiche, osservatori, editorialisti, giornalisti, movimenti che vorrebbero rimettere i muri tra di noi popoli europei, che vorrebbero rimettere le divisioni, che vorrebbero farci tornare indietro all'Europa della cortina di ferro, che vorrebbero e pensano che risolvere i problemi del mondo sia quella di illudersi che chiudendoci nei confini nazionali possiamo lasciare i problemi del mondo fuori dalla porta, ecco perché dobbiamo sempre ricordare che cos'è stata l'Europa nel momento in cui facciamo l'Erasmus, l'Europa non è solo quella cosa che ha moltiplicato le opportunità tra i pionieri dell'Erasmus come me nell'89 e la generazione Erasmus come la vostra nel 2017. L'Europa è anche quella cosa che nel giro in realtà di poco più di 40-45 anni ha trasformato il continente da quello della generazione Auschwitz a quello della generazione Erasmus, da quello in cui ragazze della vostra età che avevano solo la colpa di essere ebrei, omosessuali, gitani, venivano massacrati nei campi di concentramento nazisti, all'Europa che invece oggi darà libertà a tutti quelli come voi e anche ad altri di circolare liberamente. Questa è una cosa che non è affatto retorica nel momento in cui nel nostro continente tornano i neofascisti, tornano i neofascisti nei parlamenti nazionali, torna l'antisemitismo, torna la gisemofobia, ci sono a Roma degli imbecilli che fanno le foto di Anna Frank con la maglia della Roma. Queste sono le realtà con cui dobbiamo confrontarci oggi. Io credo che ognuno di noi che ha fatto l'Erasmus deve darsi un impegno, ridare un pochino all'Europa di quel tanto che l'Europa ha dato a lei o a lui attraverso i programmi Erasmus. Io credo che il dare qualcosa all'Europa sia certamente fare quello che fa molto bene l'Erasmus Student Network, cioè di impegnare gli ex Erasmus a aiutare gli Erasmus di oggi a inserirsi nella nuova città che li accoglie, nell'università che li accoglie, a promuovere l'idea di Erasmus, a mantenere aperta l'idea di Erasmus, ma anche quella di ricordare da dove veniva il nostro continente, dove si trova oggi attraverso la scelta dell'Unione Europea e dove si dovrà trovare domani rafforzando questa scelta. Di nuovo benvenuti a tutti a Roma e buon lavoro e soprattutto buon Erasmus a tutti.